Il Corecom reinventa i programmi dell'accesso in Toscana, presentato a Palazzo del Pegaso, il progetto realizzato con RAI regionale e Università degli Studi di Firenze. Il presidente del Consiglio regionale, Mazzeo, bisogna mandare messaggi più chiari alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. A Certaldo arriva Boccaccesca e voglia di vita. Dal 15 al 17 ottobre torna la storica rassegna con l'eccellenza dei prodotti locali. Trasformare i programmi dell'accesso in Toscana rendendo lo spazio a disposizione più dinamico e comunicativo. È questo il progetto che il Corecom ha realizzato insieme alla RAI regionale e al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze per il rilancio degli spazi a disposizione di soggetti collettivi sui canali del servizio pubblico. E sono già 13 i video prodotti in questa prima fase dell'accordo di collaborazione. A spiegare l'iniziativa il presidente del Comitato regionale per la comunicazione della Toscana, Enzo Brogi. Nel 1975 per la riforma della RAI furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni, sindacati, movimenti pacifisti, religiosi, uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee, i loro programmi, i loro progetti. Con il passare degli anni questa opportunità si è via via svilita e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma è estremamente poco qualificante, senza nessun appeal e soprattutto non è visto da nessuno. Allora con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI ma anche l'esperienza di un dipartimento che studia la comunicazione per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per la loro comunicazione. Per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'Università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico, più comunicativo e più performante. È un master che ormai ha una storia lunga, sono 18 anni, questa è la diciottesima edizione, io 18 anni fa ho contribuito insieme a dei colleghi alla nascita proprio di questo spazio. Il master è cambiato moltissimo negli anni, la possibilità del master di modificarsi rispetto a un corso di laurea è sicuramente maggiore. Noi siamo partiti dal presupposto che in Italia ci sono pochi laureati e che quei laureati che riusciamo a produrre hanno difficoltà a trovare nel mondo del lavoro una coerenza con quello che hanno studiato, col profilo in uscita. Questo vale per il triennio ma vale anche per le lauree di secondo livello. Abbiamo pensato a un master che fosse professionalizzante a un master che oltre a fornire tante conoscenze parlasse di competenze e quindi rendesse questi studenti duttili, versatili e un po' nell'ottica dei liberal studies, di fornire tutta una gamma, tutta una serie di competenze per renderli poi disponibili a quella che sarà la formazione in azienda, la formazione ultima tanto avverrà in azienda e servono comunque oltre alle conoscenze e le competenze per potersi reinventare tutte le volte, per poter rispondere a un mondo sempre più complesso sempre più dinamico e l'esperienza di questi mesi ci ha fatto capire quanto questa duttività, questa versatilità questo essere più che formattati, disponibili al cambiamento, disponibili a mettere un po' in discussione quello che è la tradizionale opposizione fra umanistico e tecnologico, questa specializzazione contro l'interdisciplinarità. Ecco noi abbiamo pensato a tutto questo, abbiamo provato a rendere ai ragazzi complesse le cose semplici per fargli domandare il perché e come si fanno le cose e a lavorare in gruppo, un'altra cosa che manca spesso da noi la competizione non è andare insieme nella stessa direzione ma un concorrere per sgomitare l'uno contro l'altro ecco una filosofia opposta a quella del nostro master. Ringrazio il presidente del Corecom Enzo Broggi per questa opportunità, da quando sono diventato presidente del Consiglio regionale ho sempre detto che questo deve diventare il luogo per dare voce a chi ha meno voce quindi bene che oggi ci sia un ulteriore passo avanti insieme all'Università di Firenze, insieme alla RAI dare più spazio per quelle che sono le trasmissioni di accesso ai gruppi di consumatori, alle associazioni per cercare di mandare messaggi più chiari, migliori ai cittadini della nostra regione. Una democrazia funziona di più quando ognuno di noi è più consapevole di quello che ha di fronte di quello che può accadere, quindi ogni qualvolta c'è uno spazio di democrazia in più io non posso che essere contento e quindi ringrazio ancora il presidente Broggi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo ringrazio l'Università di Firenze e la RAI per questa nuova importante opportunità. Sarà un fine settimana all'insegna dell'anogastronomia a Certaldo dove dal 15 al 17 ottobre si svolgerà Boccaccesca 2021. La tradizionale rassegna organizzata dal comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze, Claridea 2 e Etruria Promozione giunta alla sua ventitresima edizione per celebrare il gusto e l'arte del buon vivere. Una manifestazione apprezzata anche per lo spirito con cui si svolge dallo stesso presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, proprio a partire dal titolo emblematico di quest'anno Boccaccesca e voglia di vita. Soprattutto parlare di vita perché il titolo voglia di vita dà esattamente quello che è il senso del tempo che stiamo vivendo, la voglia di ripartire, la voglia di vivere con speranza dopo un tempo difficile ed è bello poterlo fare anche raccontando un grande scrittore, narratore che davvero ha segnato non solo la vita di Certaldo ma dell'intera Toscana, dell'intero paese. Quando attraverso la fine, il periodo difficile, la peste del 300, ci raccontava la voglia di aprire uno spazio di narrazione per far iniziare con speranza a guardare al futuro. Io vedo questo paragone, questo sillogismo che però ci permette anche di far conoscere i nostri prodotti, le nostre tradizioni. Insomma, è un momento di festa, un momento bello, un momento da andare a vivere tutti insieme a Certaldo. Tantissimi sono gli eventi che si sono svolti in questi mesi ed è bello che il 15, 16 e 17 di ottobre possa essere un ulteriore momento di ritorno alla vita, alla vita collettiva, alla socialità. Insomma, davvero buona voglia di vita a tutti. Presentiamo Boccaccesca in Consiglio regionale per la rilevanza che ormai questa manifestazione ha assunto, giunta alla 23esima edizione, quindi con una storia importante e che l'ha fatta diventare una manifestazione di rilievo sicuramente regionale che mette insieme in un contesto stupendo come quello del borgo di Certaldo la tradizione enogastronomica toscana e non solo, ormai di tutto il paese, una vera occasione per poter vedere la Toscana per quello che è. Il luogo, la cultura, l'enogastronomia, insomma, veramente una grande occasione e un complimento agli organizzatori e al comune di Certaldo che in questi anni anche su questa manifestazione ha saputo investire e farla diventare quella che oggi siamo a presentare e che molti di voi potranno andare a valutare e a gustare direttamente. La rassegna nasce infatti nel 1999 con lo scopo di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari e artigianali, promuovere i presidi slow food e tutta la produzione locale, diventando così un palcoscenico per i migliori cuochi del panorama nazionale e trampolino di lancio per molti giovani. La sorpresa di Boccaccesca è una conferma dell'evento che verrà fatto anche quest'anno, come fu fatto l'anno scorso nonostante il periodo Covid fosse anche un po' più incerto rispetto alla situazione attuale, quindi si conferma questo evento che promuove le eccellenze enogastronomiche, le eccellenze artigianali, le eccellenze che possono fornire i nostri pubblici esercizi, un modo per far conoscere a certaldesi che già la conoscono, agli abitanti dei comuni limitrofi e a tutti i cittadini della Toscana, un'occasione per provare a continuare nella vita come la conosciamo gustando le nostre eccellenze enogastronomiche, i nostri prodotti caseari, dove tutta la rete dell'imprenditoria e del settore agroalimentare di Certaldo dà prova della sapienza e della passione che tutti gli anni da anni ormai mette per commercializzare i propri prodotti. Quindi ci saranno un settore dedicato come tutti gli anni ai produttori di vino, con l'elenoteca sempre nel Borgo Alto, varie bancarelle di produttori e venditori anche fuori regione, con le loro eccellenze sempre dei prodotti enogastronomici, ci sarà il premio Boccaccesca come un riconoscimento classico ormai per questa festa che ha un percorso lungo, una storia lunga, perché la prima edizione è partita addirittura nel 1999, quindi confermare dopo tanti anni, nonostante questi periodi che stiamo vivendo, è un grosso risultato. Oltre alle attrazioni di Boccaccesca nel Borgo Alto, c'è anche la parte bassa del paese, con gli esercenti locali, i pubblici esercizi del Comune di Certaldo che offriranno appunto un angolo per mangiare, sempre con le dovute precauzioni dovute al Covid. Abbiamo proprio voglia di ricominciare a fare le nostre cose, voglia di vita in tutti i sensi, mangiare, bere, ma soprattutto veramente stare all'aperto, gioire del bello e del buono che poi è il diktat di Boccaccesca da sempre, è nata sotto questa insegna, si chiamava Rassegna per i piaceri del gusto, quindi già nel lontano 99 siamo partiti in quella maniera. Boccaccesca, a differenza di tanti che pensano sia una sagra, non lo è, prima di tutto, perché è una ricerca continua durante tutto l'anno di espositori, di produttori particolari, che dire, tanto quest'anno c'è l'aglione, l'aglione se ne parla sempre, i pisci all'aglione, ma nessuno sa che viene fatto solo nel Comune di Sinalunga, i produttori sono pochissimi, quindi quando dicono i pisci all'aglione più delle volte aglio normale, perché l'aglione è un aglio dolce, tanto per farvi capire questo. Poi, ecco, noi il nostro lavoro è proprio questa ricerca continua. Che c'è di bello a Boccaccesca? Sicuramente perché siamo un certaldo alto. Poi ci sono, come sempre, purtroppo l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare, dei grandi cuochi toscani, grandi chef che vengono ormai, addirittura alcuni sono diventati famosi con Boccaccesca, erano giovanissimi, tipo Marco Stabile, quando è venuto le prime volte era veramente giovanissimo. Ora, non vi dimenticate, sono 23 anni, eh, quindi... e quindi, niente, c'è stata questa crescita... ricordatevi che Boccaccesca è stata la prima manifestazione che ha fatto il cooking show. Non c'era nella clerice, non c'era niente. Abbiamo voglia di vivere, abbiamo voglia di lavorare e noi vogliamo resistere ad ogni costo e sconfiggere la pandemia con il lavoro e con i nostri prodotti, con le nostre attività. Boccaccesca ci sarà il 15, 16 e 17 ottobre, leggermente una settimana in ritardo a quello che era di solito, però abbiamo voglia di tornare a vivere, tornare a far vivere i nostri centri dei paesi.